L'educazione stradale è fondamentale anche e soprattutto per la propria incolumità, necessario è quindi avere comportamenti corretti una volta alla guida del veicolo, auto o motore che sia, evitare di bere, guidare responsabilmente per evitare di andare incontro a spiacevoli conseguenze che possono andare dai provvedimenti disciplinari e di confisca del veicolo fino al rischio incidenti. All'Istituto Calamandrei di Bari la Polizia di Stato ha voluto sensibilizzare i giovani su questi temi. Oggi insieme alla Polizia stradale alcune nostre classi, in particolare le classi seconde, parteciperanno ad un'attività di educazione stradale per sensibilizzare gli alunni già da questa età ad usare un comportamento adeguato quando utilizzano i mezzi. La Polizia di Stato e la Polizia stradale nell'ambito dell'amministrazione del Ministero dell'Interno persegue anche e soprattutto finalità volte alla sensibilizzazione dell'utenza sulla strada, con particolare riguardo al rispetto della normativa consacrata nel codice della strada e ovviamente evitando, inducendo i ragazzi ad evitare di bere la sera e ovviamente di assumere sostanze psicotrope e stupefacenti. Grazie. 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 Grazie.